Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Marta, ho 22 anni e sono una studentessa che frequenta il terzo anno del corso di laurea in matematica. La matematica mi piace da sempre, fin dalle medie, soprattutto per il modo in cui ti insegni a ragionare. Nel momento però dell'iscrizione non avevo minimamente idea di cosa sarei andata incontro e cosa avrei studiato. Avevo solo delle vaghe idee di cosa fosse l'analisi per lo studio liceali. Quindi il primo anno di studio è stato piuttosto impegnativo per l'immensa quantità di nozioni teoriche che vengono impartite. Però con grande dedizione e tante ore spese sui libri sono riuscita ad apprendere un metodo di studio e il linguaggio matematico che ad oggi apprezzo molto. Ho scelto l'insubria su consiglio di una mia professoressa delle superiori, però non ci avevo riflettuto molto. Era solo 20 minuti da casa e per me andava benissimo. Solo successivamente mi sono resa conto dell'importanza di questo Ateneo, che ad oggi considero come una seconda casa. Infatti, essendo insolventi nel mio anno di corso, si è creato uno stradissimo legame di amicizia con i miei compagni. Ci si sostiene la vicenda, si preparano i disegno assieme, non neanche i momenti di svago. Apprezzo molto anche il rapporto con i miei professori. Infatti sono sempre disponibili per chiarimenti e consigli, basta bussare alla porta del loro ufficio. Quindi se hai un'interdiscrizione il mio dubbio era, ce la farò, visto che proprio non sono un genio. Ad oggi posso rispondere, sì, ce la si può fare. Basta sapersi mettere in gioco e credere alle proprie possibilità.